Una piccola parte di queste rigidime richieste ancora oggi... Certo che trovarsi al liceo e ricevere già una penna di dare stanza, ragazzi. Un'immagine fantastica perché questi sette premiati sono stati selezionati da una trentina di concorrenti di valore, da una commissione di 11 giurati di alta personalità e rappresentano cinque settori portanti dalla cultura all'impresa, allo sport, al volontariato, eccetera, che è uno spaccato fantastico di che cosa dispone il nord-est di grandi personaggi, di grandi iniziative. Siamo orgogliosi col premio di presentarne ogni anno sette, abbiamo delle grandi difficoltà perché la quantità di meritevoli varierebbe tra le centinaia e 200 persone da premiare, ma è difficile. Quindi io sono orgoglioso di rappresentare questa associazione e spero che i giovani imparino da questi grandi maestri perché veramente sono dei maestri di vita, di passione, di cultura, grandi personaggi.